L'entrovati dati G della mobilità riprenderà alle 20 al termine della seconda fascia di garanzia lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. La protesta sulla rete ATAC e Roma TPL si concluderà alla fine del servizio. Questa notte sarà garantito il servizio delle linee notturne, non così invece per le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne di altre 15 linee di bus e gli eventi in città nella giornata di domani. Dalle 10 alle 13 in piazza Santi Apostoli manifestazione del sindacato CGL contro la guerra in Ucraina. Dalle 7 scatteranno i divieti di sosta, sono possibili deviazioni per le linee di bus. E' tutto per questa edizione.